Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video qui sul canale. Oggi volevo fare un video diverso dal solito, volevo analizzare da un punto di vista tecnico l'infortunio che è avvenuto al bodybuilder Ryan Crowley, spero di averlo detto bene, durante una distensione su panca inclinata, credo che sia stato un massimale. E c'è stato il distaccamento, ma veramente da vedere è forte, del gran pettorale. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piace questo tipo di video, mi raccomando, o mi piace che non costa niente, e accendete la campanellina. Quindi lo strappo, doloroso strappo del gran pettorale, del tendine del gran pettorale, il peso era considerevole, 220 kg, su una distensione su panca inclinata. E quello che voglio provare a fare è ragionare da un punto di vista tecnico, appunto, sulla rottura del tendine del gran pettorale, sulla sua anatomia. Cosa è successo? Andiamo a vedere il video. Quindi l'atleta sta eseguendo una panca inclinata e nella fase di discesa, quando abbassa il bilanciere, c'è un carico notevole in eccentrica. I muscoli pettorali si allungano. Quindi nel video vediamo che quando Crowley inizia la fase di discesa, i suoi muscoli pettorali sono comunque accorciati, ma mentre abbassa il bilanciere, cosa succede? Che il muscolo va ad allungarsi. Ma mentre si allunga, lavora comunque. E quindi continua a lavorare in fase eccentrica. E che succede? Che il muscolo si allunga, si allunga e va a distaccarsi. Adesso lo rivediamo. Quindi si prepara, il peso è veramente alto. Si prepara all'esercizio, cerca di trattenere il peso nella fase eccentrica e si ha il distaccamento del gran pettorale. Ecco qua. Quindi si vede proprio che si distacca. Quindi ragazzi, l'attivazione muscolare concentrica è quando il muscolo va ad accorciarsi, si contrae e quindi ad esempio ogni volta che piego il gomito vado a contrarre il muscolo del bicipite. La fase eccentrica è quando io rilascio, vado ad estendere il gomito, magari ho un peso e allungo la muscolatura ma la muscolatura, se io trattengo il peso, quindi muovo il peso in maniera lenta comunque il muscolo si sta contraendo, sta facendo un grande sforzo che a volte, no a volte, è maggiore della fase concentrica ovvero il muscolo ha più forza nella fase eccentrica che nella fase concentrica. Fate ad esempio quando poggiate un grande pacco che magari non riuscite a sollevare da terra però poggiarlo a terra riuscite quindi è state lavorando con la fase eccentrica della muscolatura che è molto più forte. Essendo più forti i muscoli, molte volte il tendine non segue la forza muscolare perché il tendine è normalmente più debole di quello che è del potenziale di forza che può sprigionare il muscolo quindi ragazzi, se confrontiamo, se andiamo a confrontare il muscolo lo confrontiamo con il tendine è sempre più forte il muscolo che il tendine ecco perché gli infortuni a volte vengono spesso a livello tendinio è sempre il tendine che si infiamma perché? perché il tendine i tendini impiegano più tempo quando ci alleniamo impiegano più tempo per adattarsi allo sforzo il muscolo diventa sempre più forte il tendine deve impiega sia più tempo per adattarsi ma anche nel recupero infatti fate caso che quando vi fate male ad un tendine i tempi di recupero sono veramente lunghi ora cerchiamo di capire qual è l'anatomia del muscolo gran pettorale per quel che riguarda il muscolo del petto abbiamo un muscolo se vogliamo ma non è propriamente detto così gran pettorale maggiore che è più grande quello che di norma noi vediamo di più in una persona e il muscolo pettorale minore che di solito viene anche chiamato la parte clavicolare quella che nel gergo comune della palestra viene definito come petto alto quindi una che origina dallo sterno una che origina dalla clavicola vanno ad inserirsi sull'omero nello stesso punto ora la cosa che è particolare di questo muscolo è che c'è a livello dell'inserzione un ribaltamento non so se è riuscito a vederlo ovvero la parte bassa si va è come se si va a ribaltare quindi si inserisce sulla parte alta nell'inserzione dell'omero la parte alta si inserisce sulla parte bassa è come se si andasse ad attorcigliare sul punto di inserzione passatemi il termine alla fine l'anatomia è un po' articolata e complessa bisogna interpretarla perché? perché io potrei dire che il punto di origine è sull'omero è l'inserzione sulla clavicola allo sterno o potrei dire no l'origine è la parte clavicolare esternale è il punto di inserzione dipende da che punto la si guarda l'anatomia ok questa è l'anatomia del gran pettorale ora torniamo al video ricordati che il petto origina dalla parte esternale clavicolare va ad inserirsi sull'omero qui più o meno e quindi come l'omero scende va ad allungare la muscolatura del petto e allungandosi vediamo che si va a rompere proprio c'è proprio una rottura netta di questo muscolo ora vediamo una palla che forma una palla perché nel muscolo abbiamo una componente elastica che appunto distende la muscolatura nel momento in cui si stacca il muscolo è sempre teso come una corda di una chitarra di un violino quando la spezziamo si accorcia ecco perché vediamo la palla l'appallottolamento del muscolo questo ragazzi è un infortunio davvero davvero grave si stacca proprio il muscolo dalla componente ossea ed è lo rivediamo quindi non non è dovuto a una a una tecnica errata ma più che altro è il peso che è davvero eccessivo la componente proprio strutturale del muscolo che non ha retto il grande peso 220 kg sulla panca in grado sono veramente tanti purtroppo quest'atleta ha avuto questo grave infortunio che è stato operato immediatamente perché il muscolo si è compattato e se non lo si va subito ad operare un infortunio così non si vanno ad aumentare veramente in maniera considerevole i tempi di recupero e soprattutto la funzionalità della muscolatura non si ha tempo di fare come ad esempio nel legamento crociato quando un atleta va a rompersi il legamento crociato prima dell'operazione c'è un rinforzo un rinforzo della muscolatura del quadricipide per avere un recupero post-operatorio più immediato per mandare in campo subito l'atleta in questo caso l'operazione deve essere fatta immediatamente adesso guardando sui social ho visto che l'atleta è stato immediatamente operato e sicuramente avrà un bel periodo di convalescenza se ritornerà a fare questi carichi mi auguro che riesca a recuperare il 100% però con una lesione di questo genere è davvero davvero difficile avere un pieno recupero della funzionalità del gran pettorale ricordiamoci che stava sollevando veramente dei carichi enormi 220 kg su panca inclinata al di là di che uso uso dopato non dopato natural non mi interessa io ho visto il punto di vista tecnico però 220 kg di panca su panca inclinata sono veramente tanti io nella mia vita non li farò mai ma neanche sulla panca piana però qui sono altri livelli non sono un po' di builder e mi interessa di allenamento di far raggiungere il massimo la massima forma in una persona quindi concludiamo il video e rivediamo per l'ultima volta l'infortunio quindi ricorda che i muscoli sono il tendine più che altro viene sollecitato di più nella fase eccentrica del movimento quindi mentre scende con il bilanciere c'è una grande forza a livello muscolare nella fase eccentrica nella fase di discesa e il tendine purtroppo non ha retto non ha retto la forza sprigionata dal muscolo e si è distaccato dall'inserzione guardiamo l'ultima volta lunga 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 e si è distaccato si vede proprio come anche se vogliamo la la sequenza in cui si è distaccato si è distaccata prima la parte inferiore che se vi ricordate il muscolo nel punto di inserzione sull'omero si gira e quindi è se la parte bassa è staccata per prima è la parte quindi frontale e questo è un intervento che necessita di urgenza deve essere l'intervento chirurgico deve essere eseguito nel più breve tempo possibile bene ragazzi questo era un piccolo video insolito e sono davvero spiacevoli questi infortuni il video mi è stato mandato e mi è stato chiesto di analizzarlo e spero che non capiti davvero a nessuno noi ci vediamo nel prossimo video mi raccomando se vi è piaciuto un mi piace e che dire ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi